La gara dopo le festività natalizie è sempre una grande incognita per tante ragioni. Quella tra Fidelis e Gravina ha regalato tre punti pesanti ai Biancazzurri dopo un match in cui i Murgiani non hanno assolutamente demeritato. In panchina per i gialloblu, il neotecnico Gaburro, tanta curiosità attorno a lui, alla prima assoluta nel girone H e 4-3-3 in campo con un ispirato Gionai a sinistra accanto ad Addabbo e Correnti. Perez e Gilli, centrali di difesa, vicedomini a dettare i tempi di gioco. Per la Fidelis invece il tecnico Panarelli punta sulla continuità e ritrova la Cassia in difesa con Cerone e Prinari alle spalle di Cristaldi. Gambe pesanti nei Biancazzurri, probabilmente anche per i richiami atletici della pausa. Grande aggressività invece per il Gravina. Carullo ci prova attorno al quarto d'ora con un tiro altissimo, ma è Gionai a cominciare al diciottesimo il suo personale duello con Annatrella. L'esterno d'attacco fa tutto bene da sinistra, entra in aria, ma l'estremo difensore è attentissimo a salvare tutto. Madi ci prova a centrale dai 25 metri, blocca tutto Annatrella. Capitan Manzo mette i brividi a martellone con un tiro da ancora più lontano, ma è poco dopo la mezz'ora che il Gravina ha le occasioni giuste per passare in vantaggio. Palla persa da avvantaggiato e Chiara Dia serve alla perfezione da Addabbo che infila la difesa di casa, ma il suo tiro è davvero di un soffio a lato. Madi recupera, palla su Manzo e Gionai tutto solo, spreca una ghiotta occasione tra le proteste biancazzurre. Sempre all'esterno giallo-blu ci prova ancora due volte, ma nella prima occasione Annatrella a salvare tutto, nella seconda invece mette direttamente sul fondo da buona posizione. I brividi corsi dalla retroguardia Fidelis suonano come una sveglia per i biancazzurri che proprio allo scadere trovano il gol del vantaggio e che deciderà anche il match. Manzo recupera, palla a centro campo, Cerone serve alla perfezione Cristaldi, abile a sterzare, ma Gigli lo atterra ed è calcio di rigore per il direttore di gara. Dal dischetto è lo stesso attaccante argentino a spiazzare Martellone. Tutti negli spogliatoi e stessi 22 in campo nella ripresa che comincia con lo stesso canovaccio della prima frazione. Gravina molto aggressivo ma poco concreto, Fidelis più guardinga nel tentativo di addormentare la partita. Da Dabbo sottoporta, inaugura le occasioni per il Gravina, ma Anatrelle è bravo ad intercettare il tiro. Gionai da sinistra, ma il suo tiro è alto. Esce Prinari al quindicesimo, un po' nervoso dopo il giallo preso qualche minuto prima e Panarelli fa essordire clemente. Un 4-3-3 per la Fidelis con avvantaggiato che da sinistra crossa la perfezione per Cerone, ma il suo colpo di testa è in precario equilibrio. È alto di poco. Gionai, sempre lui, tira alto nel cuore dell'area di rigore sugli sviluppi di un corner avvantaggiato molto più a suo agio. A sinistra ci prova dal limite, ma questa volta è Martellone a salvare tutto con un intervento a terra. Esordi anche per Monaco e Scaringella, ma è Carullo, sempre a sinistra, a crossare bene per Cerone che in sforbiciata calcia debole con l'estremo ospite. Ancora decisivo. Il tiro di Monaco nel finale chiude la contesa nonostante la sterile pressione finale degli ospiti. Il quinto risultato utile consecutivo per i biancazzurri che domenica dovrebbero affrontare la trasferta a Taranto. Il condizionale però d'obbligo per una gara che appare a forte rischio, visti i casi covid registrati negli Ionici. Si attendono novità nelle prossime ore. Il Francavilla sarà all'ospite che domenica affronteranno al vicino i giallo-blu per la prima in casa del nuovo anno.